Da 50 anni di esperienza a Stilbagno nasce Kamer. Marco Gionalevato, il tecnico italo-finlandese dell'Occhi Chiavenna, ha capito che non poteva funzionare. L'allenatore, ex sportiere di Varese, Comu Milano, dopo l'incontro con la società, si è infatti dimesso. A pesare i risultati in prima divisione nazionale, inferiori alle attese dopo gli investimenti fatti dal club. Durissimo con i suoi giocatori, Rudi Tenka, presidente dell'Occhi Chiavenna. Nella sacralità dello spogliatoio ha detto, chi non se la sente, chi non si impegna, può andare a giocare con gli amatori. Dura presa di posizione, anche se, come sempre accade, il primo a pagare è stato il capo della panchina. Giocatori che, lunedì sera, hanno fatto allenamento con Guglielmo Guanella, il secondo coach. Non sarà però lui sabato a guidare la squadra, Baselga di Pina e Trento in queste ore. Si sta infatti valutando alcune figure professionali di altissimo profilo, però serve un allenatore disposto a vivere a Chiavenna a tempo pieno. Rudi Tenka ribadisce, vogliamo vincere e salire di categoria. Invece stavamo prendendo una piega da perfetti perdenti. I giocatori sono avvisati, non avranno una seconda possibilità.